Ennesima vittima della strada lungo la regionale 71, Marianna Begeran, 49 anni, badante, è stata travolta e uccisa lungo la pericolosa arteria nei pressi di Policiano, mentre attraversava le strisce pedonali. I sanitari del 118 hanno tentato per 20 minuti di relimarla, ma inutilmente. Scoppia la polemica, una polemica vecchia, ma purtroppo sempre tremendamente attuale sulla sicurezza stradale. I popolari per Arezzo hanno già inviato un documento al comune di Arezzo che recita basta vittime, il comune fermi la strage sulla regionale 71. Il tratto stradale più pericoloso è quello tra Olmo e Vitiano. È un problema di espropri, afferma l'assessore comunale Franco Dringoli, un'affermazione che aveva però già fatto un anno fa ai nostri microfoni. Il famoso marciapiede di Policiano, che tengo a ribadire finanziato, però per una serie di motivazioni, compresa soprattutto la complessità degli espropri che coinvolgono circa una cinquantina di persone, ha chiaramente un notevole impasse burocratico avuto. Siamo dovuti ripartire con la variante urbanistica e voglio precisare che in questi giorni sta arrivando a tutti questi proprietari la comunicazione che è pronto il progetto e che quindi a breve inizieranno i lavori, normativamente per le osservazioni che eventualmente vogliono fare. Poi ovviamente ci sarà l'esproprio e partiranno in primavera questi lavori, finalmente. Però la statale sicuramente questa strada ha molte criticità e quindi la nostra intenzione è di seguire soprattutto questi punti critici con il miglioramento degli attraversamenti piedonali, della cartellonistica, della visibilità. Questo ovviamente in rapporto con la provincia che è l'ente gestore della viabilità in questo caso.